Ho capito, quindi tu vorresti usare Pikachu per lottare contro Glenn e Patrat e Sean e Blitz, l'è esatto? Sì, ho paura che non riuscirò mai a battere quei due. Ecco perché avevo pensato... E va bene, Mick. Ti presto Pikachu per affrontare questa lotta, tu sei d'accordo? Pekaletta! Evviva, è grandioso! Sì, però non puoi lanciarti in una lotta impreparato, prima dovrai imparare tutto il possibile sul tuo compagno Pokémon. Giusto, cominciamo con un po' di allenamento. Dunque, vediamo che Pokémon sarebbe meglio usare. Krakurok? Krakurok, vuoi lottare tu stavolta? Krakurok! Tieni presente che questa è la prima lotta per Mick. Perciò, vacci piano, siamo intesi. Allora, vediamo un po'. Mi ricordo che Pikachu sa usare fulmini e attacco rapido. Ma quali erano le altre mosse? Erano Codaccio ed Energisfera. Coraggio, Mick, puoi farcela. Certo, grazie. Comincia pure tu, Mick. Quando vuoi, noi siamo pronti. Ok. Tu ti senti pronto, Pikachu? Pikachu! Allora iniziamo con fulmine! Che c'è? Perché non stai attaccando? Pikachu. Pikachu! Mickey, il fatto è che Krakurok sia un tipo buio che terra, quindi le mosse elettro sono inefficaci. Quando affronti una lotta Pokémon, devi sempre pensare alla compatibilità tra i vari tipi. Ho capito, perciò le mosse di tipo elettro non hanno alcun effetto. Va bene, Pikachu, usa attacco rapido! Pikachu! Sì, evviva! Sta funzionando! Mega! Pika, mega! Forza, non è ancora finita. Usa un'altra mossa. Sì, d'accordo. Pikachu, adesso usa... Vediamo, aspetta... Pika, pika! Sì, giusto! Usa Codaccio. Pika, mega! Pika! Presto, Krakurok! Usa fossa! Cosa sta facendo? Sì! Sì, giusto! Non puoi sapere da dove sbuccherà Krakurok, perciò dovrai tenere gli occhi aperti. Occhi aperti, eh? Vai, Krakurok, usa Sgredocchio! Vedazzi! Krakurok! Chi è quel Pokémon? E' Scoliped! Ora qui! Mick, dia, Pikachu, di usare un'altra mossa! Va bene! Vai, Pikachu! Usa Codaccio! Sì! Krak! Sei stato grande! Krakurok! Krakurok! Se Krakurok perde gli occhiali da sole, si disorienta e si spaventa tantissimo! Krakurok! 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 Basta, Krakurokura! Calmate, smettila! Non vogliamo che diventi una vera lotta, perciò... Avanti, te, Pika! Adesso tocca a te! Krakurok!